Oggi vi propongo le crepe di semola. Vi lascio la ricetta per creare le crepe che non diventano molli, neanche con ripieni molto fluidi. Provatela, è facilissima, è una ricetta base dove potete creare cannelloni e crepe salate in particolar modo, ma può essere utilizzata anche per preparazioni dolci. Per esempio io ho creato una crepe alla Nutella che posso mangiare così come un panino, ragazzi, perché è una crepe che non diventa molle. Ragazzi, buonissima! Prendete una ciotola, versate 250 g di semola rimacinata di grano duro. Versate poi poco per volta 420 ml di latte parzialmente scremato. Potete utilizzare se volete il latte intero oppure il latte scremato. Amalgamate benissimo il latte. Se volete realizzare delle crepe dolci, versate come me due cucchiai di zucchero semolato e continuate ad amalgamare benissimo il vostro composto. Mi raccomando, lavorate energicamente. Se volete realizzare delle crepe salate, mettete proprio pochissimo sale. Mi raccomando, senza esagerare. Scaldate una padella. Quando la padella è ben calda, versate il vostro composto e voilà! Le crepe in poco tempo sono pronte. Mi raccomando, dovete ungere la padella con l'olio, però non dovete esagerare. O con olio oppure con burro. Proprio deve essere unta la padella. Magari asciugate col tovagliolo. Non ci deve essere né burro né olio in eccesso. Se no la crepe si apre. Questa è la consistenza molto fluida e poi velocemente dovete lavorare, come vedete come faccio io, ecco qui, per creare la vostra crepe. Quindi una volta che versate il vostro composto nella padella, subito girate e rigirate la padella fino a stendere tutta la crepe all'interno della padella. Ragazzi, guardate, è una crepe super elastica. La potete piegare, potete mettere il ripieno che volete, ricotta, spinaci, oppure anche mascarpone, nutella. Ripieni molto fluidi, la crepe non si spezza e non diventa molla perché sembra quasi quasi un vero e proprio panino. Lo potete mangiare come un panino. In questo caso è una crepe alla nutella. Ragazzi, provatela perché anche la crepe di semola è una vera e propria delizia. Se provate questa ricetta, mi raccomando, lasciatemi un commento. Ragazzi, un piccolo accorgimento. Mi raccomando, la padella non deve avere né olio in eccesso né burro in eccesso. Dovete semplicemente ungere la padella o con l'olio o con il burro e poi magari vi aiutate con un tovagliolo, la padella deve essere unta. Ma se c'è olio, burro in eccesso, la crepe non vi viene. Ricordate questo piccolo particolare. Vi mando un bacione grandissimo. Vi aspetto su tutti i miei social, quindi mi trovate un po' dappertutto. E ci vediamo al prossimo video tutorial, quindi alla prossima videoricetta super golosa. Guardate, una vera e propria delizia. Ciao, alla prossima!